Buongiorno, sono il professor Domenico Russo, dirigo l'unità di malattie del sangue e del centro trapianti midollo osseo dell'ospedale di Brescia dell'università di Brescia perché consente una gestione clinica dei pazienti CAR T organizzata, rapida ed efficiente e di questo noi ne siamo molto, molto contenti. La piattaforma WellCare viene utilizzata da tutto il nostro gruppo multidisciplinare CAR Team per cui è tutto il gruppo che partecipa alla presentazione di un potenziale candidato alla terapia CAR T, alla programmazione degli esami, alle richieste per quanto riguarda la valutazione delle idoneità del paziente e direi anche all'aggiornamento dei pazienti in trattamento e in follow up. Noi la stiamo utilizzando non soltanto per quanto riguarda la gestione clinica del paziente CAR T, ma la stiamo utilizzando anche per esempio per fare seminari di aggiornamento, per discutere i dati della letteratura, per fare delle presentazioni precongressuali e recentemente anche per presentare e discutere quelli che sono i risultati dei nostri progetti di ricerca. Direi un vantaggio enorme perché noi abbiamo scelto un'organizzazione un po' particolare e soprattutto io personalmente non amo parlare dei centri che collaborano con noi come centri esclusivamente referral. I centri referral, come così vengono conosciuti o come cosiddetti, partecipano a tutti gli effetti nel nostro CAR Team, sono inclusi in un CAR Team cosiddetto allargato, partecipano regolarmente a tutte le nostre riunioni che sono programmate ogni 15 giorni, ogni due settimane e contribuiscono insieme a noi alla selezione, alla gestione e al follow up dei pazienti. Assolutamente sì e anzi direi che l'utilizzo di questa piattaforma non è un utilizzo da consigliare nel futuro ma è un utilizzo da consigliare nel presente perché a noi ha costituito veramente un grosso passo in avanti ha contribuito a rinsaldare quelli che sono i rapporti collaborativi tra il CAR Team interno e il CAR Team allargato e l'ultima cosa che noi stiamo programmando e che faremo è quella di utilizzare la piattaforma WellCare per fare telemedicina andando a fare delle televisite con i pazienti per avere il loro follow up cronico e quindi in questo modo evitando al paziente degli accessi non dico superflui ma diciamo dispendiosi per quanto riguarda la nostra attività.